Lavoro, sviluppo, occupazione! Lavoro, sviluppo, occupazione! Lavoro, 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 lavoro! Questo è lo slogan dei lavoratori dell'Alcoa arrivati davanti al Ministero dello Sviluppo Economico della Sardegna per venire a manifestare contro il rischio a chiusura dello stabilimento. Lavoro, vabbè! Stiamo combattendo per mantenere in vita il nostro stabilimento di alluminio primario. Questi signori dicono tanto che l'alluminio è strategico per il nostro paese. Oggi si devono svegliare e trovare una soluzione perché se è strategico è l'unica fabbrica che c'è l'Italia che deve rimanere in più. Oggi si devono svegliare e trovare una soluzione! Oggi si devono svegliare e trovare una soluzione! Siamo qua per difendere il nostro posto di lavoro, il territorio, il successo iglesiente, che ormai è disastrato. Quindi chiediamo al governo Monti che ci dia la mano, che tolga le pane fuori e ci dia la mano, perché il successo iglesiente sta crepando, sta morendo e non lo permettiamo più. Per noi, i nostri figli e le nostre famiglie!